Possiamo iniziare, ben ritrovati a tutti, da Salvatore Caretto, ben ritrovate, è un piacere di nuovo avervi qui, mercoledì 3 ottobre, oggi vi parlerò del programma Builderall Business e anche di qualche novità che sta ruotando attorno alla piattaforma di Builderall, perché Builderall prima di tutto è una piattaforma di marketing, è un insieme di software pronti a dare supporto a chiunque abbia bisogno di lavorare online. Andiamo avanti e qui vi dico cosa scoprirete nei 30 secondi, ve l'ho appena detto, vi mostrerò qualcosina di Builderall e ti parlerò principalmente proprio del programma di Builderall. Dopodiché potremo stare insieme un altro po' per rispondere alle vostre domande. Perciò qui questa sera è importante per te perché imparerai a conoscere un prodotto che dominerà il mercato nella sua nicchia, in questa nicchia di mercato. Stai scoprendo che siamo in una fase di lancio, perché se non lo sapevi te lo dico io adesso. Builderall è appena, a virgolette, nato, anche se ha alle spalle 11 anni di esperienza da parte dell'azienda per quanto riguarda proprio creazione di software, ma Builderall così, come la vedi adesso, è appena nato. Perciò la piattaforma così completa è stata lanciata, pre-lanciata a febbraio. Abbiamo fatto il lancio ufficiale il 27 di luglio ed è finito, perciò abbiamo fatto due mesi di lancio, finito proprio qualche giorno fa. E adesso siamo all'inizio, praticamente stiamo creando una base di utenti e di clienti. Obiettivo dell'azienda? Un milione di clienti. Questo milione di clienti è il primissimo obiettivo per poi andare avanti e creare tanti milioni di clienti. Perché? Perché questo è il nostro mercato. Il nostro mercato è quello di milioni di utenti che hanno un sito web e che perciò possono soffrire dei servizi uguali a quelli che proponiamo noi con Builderall. Ok. Questa perciò per te è la grossissima opportunità per conoscere di più questo business e per iniziare magari una nuova attività partendo proprio da zero se non avevi esperienza oppure dal tuo livello di qualifica che hai. Parlo qualifica professionale, magari se lavori già nel web, cose del genere, se sei webmaster va benissimo perché con Builderall abbiamo veramente tanti clienti che già fanno questo lavoro e lavorano online con altre piattaforme e hanno deciso di utilizzare questa. E anche perché questa sera potrai avere subito un account business per iniziare immediatamente l'attività. Ok. Prima di iniziare ti do un consiglio preziosissimo, non prezioso come c'è scritto qui, preziosissimo perché io ho chiuso i microfoni, parlo solo io, ma non perché sono egocentrico, semplicemente perché mi voglio concentrare e voglio spiegarvi il tutto nel miglior modo possibile per lasciarvi quanta più chiarezza nella vostra testa. Allo stesso tempo mi sentirete dire tanta roba che magari non conoscevate, perciò non guardo la chat, non rispondo nella chat, non scrivete nulla nella chat in questo momento. Pensate a concentrarvi e ad ascoltarmi, ok? Prendete carta e penna e prendete nota di tutto quello che non capite. Alla fine io aprirò i microfoni, vi do la possibilità di dialogare con me, perciò avete una consulenza gratuita direttamente qui questa sera, subito, come se fossimo dal vivo uno di fronte all'altro. Così qualsiasi dubbio che ti verrà, ti verrà immediatamente tolto, perché non c'è nessun dubbio che possa restare in piedi con Builderall. Spero che tu abbia preso carta e penna e così possiamo iniziare. La primissima cosa che farò è presentarti la mia famiglia. Sì, perché ormai io e tanti altri consideriamo Builderall più che un lavoro, una famiglia. Perché? Perché ci siamo a contatto tutti i giorni. Qui vedete Eric Salgado è il presidente e solitamente quando vi parlano online di un business e vi invitano, magari non c'è, sì, vi fanno vedere subito i guadagni, vuoi guadagnare l'ira di Dio di soldi, questo e quest'altro. Poi persone non ne conoscete mai. In questo caso io vi presento per primo Eric Salgado e vi dico anche una cosa. Questo signore qui che vedete un po' sfocato, il 14 ottobre avrete la possibilità di conoscerlo insieme ai top leader dell'azienda, top venditori dell'azienda, persone che lavorano. E li incontreremo a Rimini, insieme a me, a Giorgio e ad altri leader italiani. Ci sono sei persone, nove che lavorano in un'azienda, beh no, siamo più di cento, di cui siamo perché io ormai lavoro con questa azienda a tempo pieno, 100%, sono il responsabile italiano. Scusatemi, sono un po' raffreddato, è arrivato in periodo brutto, non sappiamo più se vestirci caldi o freddi. Va bene, supereremo anche questa e andiamo avanti. Siamo più di 35.000 utenti al momento in cinque continenti, questo significa che siamo presenti in tutto il mondo. Stiamo aprendo l'ufficio in Europa, in Olanda, la direzione ce l'avrà Vasili, mio collega, proprio per poter operare al meglio all'interno della comunità europea. In più, si sta aprendo un ufficio a Tokyo per poter operare nella parte asiatica del mondo. Questo permetterà all'azienda di fare un valzo enorme, veramente come numero di clienti, perché? Perché già in Europa sta succedendo che in alcune nazioni hanno delle problematiche con le tipologie di pagamento che ha Builderall. Noi per fortuna non le abbiamo, perché in Italia già utilizziamo Paypal, però in alcune parti d'Europa magari Paypal non è utilizzato e per questo il mercato non stava crescendo. Idem in Asia. Anche in Asia c'è un problema sia di legislazioni che di valute. Grazie all'apertura dell'ufficio, Builderall farà un balzo in avanti incredibile proprio come numero di clienti possibili. E noi possiamo operare in tutti i continenti, non abbiamo limiti. Questo è il bello del lavoro online. La mission aziendale è quella di fornire software, ma più che software, soluzioni per piccole e medie imprese. Sia ben chiaro, noi non abbiamo una soluzione per tutto. Noi abbiamo soluzioni per piccole e medie imprese, ok? Prendete appunti di queste cose che sono importanti. Che cos'è Builderall? È un costruttore di siti, una piattaforma di marketing digitale. È un software per imprenditori e titolari di imprese, di attività commerciali, di networker, di persone che lavorano online. Insomma, offre soluzioni per costruire, promuovere e vendere online, ok? Ve l'ho detto in due parole. Adesso vi spiego un attimino cosa possiamo fare con Builderall. È innanzitutto una piattaforma, software as a service, perciò offre del software in base alle esigenze dei clienti. Non è detto che dobbiate utilizzarli tutti. La parola d'ordine è illimitato. Illimitato perché all'interno della piattaforma noi non abbiamo mai limiti. Per esempio, possiamo costruire infiniti siti web. Abbiamo diversi costruttori di siti web, cioè diversi modi di costruire un sito web. Possiamo costruire dei infiniti sales funnel. Ecco, i sales funnel adesso sono le soluzioni che vanno più di moda, perché stanno veramente ottenendo dei risultati eccezionali, aiutando aziende, piccole e medie imprese, chiunque a vendere di più. Perciò il web sta subendo una metamorfosi e grazie a questi nuovi sistemi riescono ad ottenere molti più risultati le aziende, che non è più prerogativa delle grossissime aziende, ma anche delle piccole e medie, grazie a piattaforme proprio come questa di Builderall. Infatti abbiamo all'interno un autorisponditore professionale con contatti e potente invio illimitati anche qui. Solo l'autorisponditore, signori, prendete nota di questo, poi andate, se non conoscete i nostri competitor, andate su GetResponse e guardate i piani. Andate sul piano illimitato e scoprirete che costa ben 1900 euro al mese. 1.900 euro al mese, non sto scherzando, GetResponse, si scrive Get, G, E, T, Response. Andate sul web, non adesso, dopo, e verificate se sto dicendo cose vere oppure sto dicendo cose false. Poi abbiamo AppBuilder. AppBuilder è un costruttore di app per cellulari, applicazioni. Proprio quelle che voi cliccate sul cellulare, ci sono le applicazioni, bene, si costruiscono con applicazioni come queste. Anche questo è un software che potete cercare, BuySiberian, scrivete proprio così, AppBuilder by Siberian, vedrete che non troverete meno di 50 euro al mese come offerte sul web, solo per avere questa applicazione, ok? Solo per costruire qua. Poi abbiamo Design Studio, Moocup Editor, un mini Photoshop, possiamo costruire infinite presentazioni online, infiniti video animati, infiniti video flottanti, notifiche browser, sono le notifiche, quelle che escono fuori dal vostro schermo, vi avvisano tipo quelle di Facebook o da altri, e voi le potete inserire nei vostri siti web. AppSocialProof è un'applicazione, e sono quelle notifiche invece che vi informano che qualcuno, per esempio, si è registrato, qualcuno ha comprato. Quando aprite un sito web, escono queste notifiche, dice Giuseppe appena ha comprato un paio di scarpe, Francesco si è appena registrato il tuo webinar, e cose del genere. Ecco, anche queste sono tutte cose che voi trovate online, ma che hanno un costo, ok? Perciò noi andiamo ad offrire un pacchetto completissimo, Script Generator, Photo Studio 3D, è un software per realizzare immagini in movimento 3D, proprio da utilizzare poi magari nel proprio sito web o e-commerce. Piattaforma e learning, questa è un'altra cosa potentissima, perché? Perché online tantissima gente ha bisogno di piattaforme per vendere corsi, o anche semplicemente gestire dei corsi online. Bene, noi abbiamo all'interno anche questa, magari potreste proporre, il DeRollu solo e soltanto per questo, e vi garantisco che sarebbe competitivo ugualmente, solo per uno di tutti questi, già è competitivo rispetto a quello che trovate sul mercato. Social Share Looker. Bene, mi fermo mezzo secondo su questo, perché oggi un guru italiano se ne è uscito con un post bellissimo, oggi vi faccio conoscere uno strumento fantastico che vi permetterà di amplificare le visualizzazioni su Facebook, sui vostri siti, di qua e di là, diventano tutto virale. Bene, si tratta proprio dello Social Share Looker. Questo qui oggi lo stava proponendo a 27 dollari, una tantum, perché comunque il servizio costa 27 al mese, ha fatto una cosa eccezionale, perché con 27 euro una tantum, uno può comprare il Social Share Looker. Noi ce l'abbiamo all'interno, compreso nell'abbonamento. E tanto altro ancora, perché dal 27, signori, abbiamo aggiunto tantissima roba, abbiamo modificato completamente i nostri server, perciò se avete sentito dire che Builderall era lenta, adesso non è più lenta, perché adesso abbiamo dei server velocissimi, presenti in tutto il mondo, in qualsiasi parte del mondo, aprano il vostro sito web, si aprirà in un lampo. Possiamo comprare direttamente dei domini all'interno della piattaforma. Abbiamo finalmente e oggi l'ha presentato in maniera definitiva il presidente Pixel Perfect Responsive, un costruttore di siti web veramente unico, era già unico prima, ma con le ultime modifiche che hanno fatto, apportate proprio in questi giorni, adesso è diventato il costruttore definitivo, per eccellenza per costruire siti web. Abbiamo infatti un nuovo sistema per editare le versioni mobili, e questo ci arriverà a brevissimo, il virtual store possiamo realizzare i siti di e-commerce, abbiamo il chatbot, cioè possiamo costruire infiniti chatbot, infiniti, infiniti, se voi sapete ManyChat, ChatFuel, io offro abbonamenti a pagamento, 59, 79, 129 al mese, solo per il chatbot, e noi ce l'abbiamo qui all'interno. Un autopost per le vostre pagine di Facebook, abbiamo l'autorisponditore con un sistema di diagrammi a flusso per realizzare delle campagne eccezionali, un sistema di tag, integrazione di mail in boss con il nostro webinar, piattaforma webinar appunto, streaming webinar, possiamo andare online con la nostra piattaforma webinar e fare screen sharing, condividere lo schermo, 24 tipologie di sales funnel, guardate ragazzi, vado di corsa perché voglio soffermarmi su quello che possiamo poi realizzare, nuovi sistemi di editing per i sales funnel, nuova area quick training, più video tutorial, e qua mi fermo un attimo, più video tutorial. Bene, Avete mai trovato un'azienda con piattaforma di marketing che parla italiano, che comunque abbia una community italiana con oltre 600 persone? Io non l'avevo mai trovata, ho usato piattaforme di tutti i generi, guardate anche la più famosa Click Funnel, Power Lead System, ho provato Online Sales Pro, ne ho provate veramente tante, 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 ma dietro c'era sempre qualcosa, tutto in inglese, la formazione era tutta in inglese, sì, ogni tanto qualcuno faceva qualche cosettina, ma vi voglio presentare addirittura una piattaforma intera, uguale, identica a YouTube, e questa è Builderall Tutorial Italiano, cioè qui abbiamo e avremo sempre di più tutorial per ogni cosa, ok? Adesso magari non per tutto, ma man mano stiamo andando, perché? Perché in questa piattaforma io posso caricare video, ma li può caricare chiunque di voi, in maniera da dare formazione a tutti, gratuitamente inclusa all'interno del vostro abbonamento, non andrete a pagare nulla di più. Qua trovate video, per quanto riguarda Builderall, ma anche soluzioni per l'email marketing, consigli e trucchi, supporto, business motivazione, marketing, traffico, perciò se volete potete tranquillamente iscrivervi a questa piattaforma e caricare, vedetevi registrate, e caricate i video. E questo ragazzi è qualcosa di unico, voi trovate in un gruppo in Italia che abbia qualcosa del genere, ma non basta, stasera veramente vi lascerò a bocca aperta. Video tutorial sul richiesto, perché quando qualcuno chiede qualcosa nel nostro gruppo, noi in un attimo, utilizzando dei software, non solo di Builderall, ma anche terzi, che insegniamo anche ad altri, a registrare immediatamente quello che serve, glielo diamo sotto forma di video. Nuovi template per le learning, area riservata per gli utenti di Builderall, statistiche. Bene, è importantissimo avere le statistiche del vostro sito web. Noi addirittura arriviamo ad avere le statistiche sul singolo tasto, signori. Nuovi timer, perché anche i timer sono importantissimi, sono importantissimi i timer per poter dare il senso di scarsità quando costruite un corso, o cose del genere, e magari fate un'offerta e volete che questa offerta duri solo 24 ore o solo 48 ore, bene, i timer fanno un'importanza vitale. Vi posso assicurare che usare un timer a posto di un altro cambia il risultato della vostra campagna. Abbiamo presentazioni del sistema già pronte, realizzate. Autofunnel. Ecco, qua mi fermo mezzo secondo, perché se siete networker, o anche se non lo siete, uguale, perché la cosa importante è sapere quello che si può fare. Bene, abbiamo parlato di funnel, ma nel network marketing è importantissimo questo sistema di autofunnel. Perché? Che voi potete costruire. Immaginatevi di essere un leader o comunque che arrivi qualcuno e vi chieda la costruzione di un funnel per un network fisico, perché vogliono magari incrementare le vendite o il procacciamento di nuove persone, nuovi affiliati. Grazie ai funnel questo è possibile, sia aumentare le vendite che aumentare il numero di affiliati nella propria rete. Un funnel fatto bene porta questo come risultato. Però cosa succede? Che per passarlo alla rete diventa sempre complicato, perché devi spiegargli che devono cambiare il referral link qui, il referral link lì. Cioè, voi fate un funnel complicato magari dove il referral link è posizionato in 30 posizioni strategiche, e poi c'è l'email marketing e poi c'è questo. Cioè, un sacco di roba da modificare per adattarla. Ok? Con l'autofunnel tutto questo viene fatto in automatico con un sistema di tag. Adesso non vi sto a spiegare, ma sappiate che se fate network marketing avete questa possibilità di realizzare degli autofunnel e di passarli alla rete in maniera automatizzata. Non come dice qualcun altro che fanno sistema automatizzato, ma non è vero, perché non è un vero sistema automatizzato. Abbiamo centinaia di nuovi template, una nuova area di Builderall Business, la community. Ecco qua, di nuovo, mi fermo un attimo, perché la community di Builderall Business, questa è la nostra piattaforma, la community è qualcosa di unico, anche qui. Prima vi ho detto, no appunto, la possibilità dei video, della community che siamo 700 persone, ma siamo una community mondiale e all'interno della piattaforma. In questa community, signori, noi possiamo andare ad inserire, così come lo facciamo per il nostro canale video, lo possiamo inserire direttamente qui, clicchiamo su italiano e guardate, per magia, solo videocorsi italiani, ok? E questo è solo l'inizio, solo l'inizio, perché voi immaginatevi fra un anno, fra due, tre, quattro, cinque anni, quando avremo centinaia di migliaia di clienti, quanta roba troveranno qui dentro le persone che decideranno di iniziare l'attività sotto di voi, perché lo faranno sotto di voi, che siete voi i primi in Italia che state partendo con questa attività imprenditoriale. Ritorniamo alla nostra presentazione. Ah, poi c'è Builderall Marketplace. Bene, chi conosce l'affiliate marketing? L'affiliate marketing è un sistema che vi permette di vendere un prodotto che non è vostro. Per esempio, il primo in assoluto a lanciare le affiliazioni è stato Amazon. E questo non lo sapevate. È stato il primo sito di affiliazione. Amazon permette a chiunque di entrare nel suo sito, di richiedere lo status di affiliato. Poi voi scegliete qualsiasi prodotto, vi danno un link, prendete questo link, lo promuovete, o un coupon, o quello che sia. Se qualcuno compra qualcosa, vi danno da un 4 a un 8%. Bene, questo è il sistema di affiliazione, il marketplace con affiliazione. Builderall ha creato una piattaforma proprietaria che gestisce tutto, pagamenti, vendita, creazione delle pagine, creazione dei tasti, implementazione di Amazon, tutto quanto dentro una piattaforma che non è quella per la costruzione dei siti, è una cosa a parte, completamente separata, ma creata da Builderall e noi che lavoriamo con Builderall e anche tu, se vorrai, potrai usufruire di questa piattaforma senza tirar fuori un solo centesimo, ok? Perché altre piattaforme simili, tipo Clickbank, GVZO, invece, si fanno pagare, voi entrate per diventare dei venditori, se avete un corso da vendere, dovete pagare 50 euro e più puoi pagare delle commissioni, da noi invece pagherete solo se venderete. La cosa bellissima è che chiunque, anche non iscritto a Builderall, si può iscrivere al Marketplace e vendere i nostri prodotti, i nostri vostri, i tuoi, ok? Perché se tu hai un corso, lo metti all'interno della piattaforma, la piattaforma automaticamente pagherà l'affiliato, perciò tu non devi fare niente, tutto automatizzato. Ragazzi, questo è incluso dentro anche il nostro abbonamento. Abbiamo una roulette pop-up, questo è qualcosa per dare dei coupon, degli sconti e cose del genere, è stato aggiunto il sistema dell'app Accordion, che è un sistema fisarmonica per poter realizzare dei test e delle immagini in una maniera veramente stupenda, e poi aggiunti gli sfondi con gradienti. Gli sfondi con gradienti permettono veramente in qualsiasi elemento del sito web di scegliere voi il colore, ma non solo il colore fisso, ma proprio sfumatura, da dove partire la sfumatura e quant'altro. Ragazzi, ne avrei ancora da raccontarvi, ma vado avanti perché dobbiamo parlare di business, ma era importantissimo, era importantissimo farvi capire, prima ancora di parlare di business, che noi abbiamo in mano un prodotto reale, un prodotto che vale oltre 1900 euro al mese e lo possiamo proporre ad un prezzo eccezionale di soli 45 euro al mese, ok? E questo, prima di andare avanti, vorrei farvi un piccolo preambolo sul perché la gente fallisce online e cosa bisogna fare per avere successo online, prima di dirvi come potete farlo con Builderall, ok? Maggior parte delle volte per questione di marketing inefficiente, cioè ci affidiamo a delle aziende che non sanno manco che cosa sia il marketing, purtroppo, e questo ci porta al fallimento nostro, personale, non dall'azienda. la mancanza di formazione, questa è un'altra cosa perché magari hai iniziato un'attività, ma ragazzi, una cosa importantissima, ecco, è scritta sotto, mentalità non imprenditoriale, chi lavora online, se non ha la mentalità imprenditoriale, non va da nessuna parte, se non avete una mentalità imprenditoriale, dovete almeno avere la possibilità di formarvi, perciò se manca la formazione, è chiaro che se anche avete la mentalità imprenditoriale, ma senza la formazione difficilmente riuscirete ad avere successo, ok? Oppure perché magari c'è gente che pensa che online, basta arrivare online, aprire un sito con una piccola idea e avere successo come Uber o Airbnb, e sono due siti famosissimi, penso che li conosciate, se non li conoscete, uno è quello dell'affitto delle macchine, persone che non sono tassisti e che però tramite un'app praticamente possono venire a darvi un passaggio, e Airbnb invece un nuovo sistema per affittare le case libere, insomma, sono delle idee che hanno reso miliardari le persone che le hanno inventate, se non di come queste persone ne nascono una ogni non so quanti milioni e milioni di, anzi miliardi di persone. La maggior parte della gente poi fallisce perché pensa che online basta schiacciare quattro bottoni, il magic button, per ottenere risultati, sbagliatissimo. E l'altro, io faccio questi esempi Facebook, Google, Amazon per farvi capire che se anche lavorate con questi mostri sacri, solo imparare come fare soldi grazie a queste tre aziende, per esempio Amazon, non abbiamo detto che è un'affiliazione, ma fare affiliazione pensate che sia facile e poi paga il 4% Amazon, non è che paghi chissà che, mentre fare affiliazione una volta che avete imparato forse vi conviene vendere dei prodotti che vi pagano il 50%, il 60%, il 70%, perché all'interno dei siti come Marketplace di Builderall o GVZO o altri troverete dei prodotti con queste percentuali di guadagno. Ok, veniamo a noi, perché avere successo e cosa serve? Innanzitutto, vi ho detto all'inizio che noi abbiamo dei prodotti e dei servizi per piccole e medie imprese e la cosa bellissima è che noi operiamo in una nicchia sempreverde, una nicchia sempreverde è una nicchia di mercato che non morirà mai e per le piccole e medie imprese per fare marketing hanno bisogno di una cosa imprescindibile. Devono avere un sito web e un servizio hosting, devono avere queste due cose qui, ok? Una e due. se non hanno queste due, non hanno presenza online perché queste due sono imprescindibili una dall'altra. Non puoi avere solo l'hosting, cioè puoi anche avere solo l'hosting e non hai il sito web, è chiaro, stai spendendo dei soldi inutilmente. Lo stesso, un sito web senza hosting non è possibile, ok? Perché l'hosting è il posto dove viene appoggiato realmente, dove risiede fisicamente un sito web. Questi due servizi, signori, le aziende sono già abituate a pagarle, ok? Perciò voi non dovete andare a vendere qualcosa di nuovo, non dovete convincere a fare una spesa in più a nessuno, anzi, anzi, riuscirete a farli spendere meno ed avere di più. Questo è Builderall. Adesso, riuscite a immaginare che tipo di attività potrete imparare a fare con Builderall? Forse sì, forse no. Andiamo avanti, così magari ti faccio capire meglio. Per avere successo, poi bisogna avere marketing con un obiettivo, perciò queste aziende devono poter costruire il proprio marketing in una maniera efficace. Se non lo possono fare, difficilmente queste aziende avranno successo online, ok? E noi gli forniamo tutti gli strumenti per costruire il proprio marketing. È una perfetta combinazione tra tutte queste cose qui, guardando anche con un occhio al futuro. adesso vediamo di cosa abbiamo bisogno noi per avere successo online. E qui ti chiederei di prendere di nuovo carta e penna a prendere appunti. Perché se anche questa sera deciderai poi di non lavorare con noi, perché magari non ti piace l'azienda, non ti piaccio io, non ti piace chi ti ha invitato, fatti tuoi, non è problema nostro, almeno ti lascio questi sette consigli che ti potrai utilizzare sempre per la scelta di un tuo eventuale business futuro. La prima cosa, devi avere un prodotto perfetto. Prodotto perfetto significa che questo prodotto che vai a vendere sul mercato deve essere quello giusto. Ok? E noi abbiamo il miglior costruttore di siti web al mondo e in più tantissimi altri software. Capite che il nostro prodotto è più che perfetto, perciò con Builderall tu hai la primissima cosa che ti serve per costruire il tuo successo. Non basta, perché è un prodotto perfetto. Se poi non serve a niente questo prodotto perfetto comunque serve solo a pochissime persone a livello mondiale, difficilmente tu avrai successo. Ne venderai qualcuno, magari sapere il mercato ed è finito. Mentre per avere successo devi avere un'alta richiesta e un'applicazione reale. Che significa? Significa che Builderall gli abbiamo detto che lo può usare chiunque, piccole e medie imprese, marketer, blogger, imprenditori, singoli, fornitori di servizi, cioè veramente non dico tutti ma la maggior parte della popolazione lo può utilizzare. Solo le grosse aziende avranno bisogno di software più specifici. Questo sì. Ma per il resto Builderall è perfetto per tutti quanti. La seconda regola ci siamo. Ok? Siete d'accordo? Benissimo. Poi dobbiamo essere una nicchia di mercato sempreverde. Ve l'ho detto prima, noi lo siamo perché vendiamo software. Perciò noi siamo nel mercato dell'hosting dei siti web che non morirà mai. Se domani nasceranno dei siti web 4.0 c'è problema. Noi saremo adeguati perché siamo velocissimi. Questa è un'azienda lampo, è una scheggia questa azienda. Cioè veramente lo posso assicurare non riusciamo a starli dietro. È qualcosa di incredibile perché così deve essere nel campo dell'internet ragazzi. O si è veloci oppure si è tagliati fuori. Non ci sono le vie di mezzo. Ok? Perciò tre di queste sette leggi noi le rispettiamo appieno. La quarta è quella di ottenere dei guadagni mensili ricorrenti. Cosa significa? Significa che io oggi vendo un prodotto. Ok? Normalmente se non c'è una ricorrenza mensile se non c'è un abbonamento io vendo oggi e ho finito. Perciò io questo mese vendo dieci licenze ho guadagnato ma il mese prossimo devo rivendere altre perché se no io non mangio. Mentre con Builderoll io vendo oggi ma grazie al fatto che vendo un prodotto con una licenza mensile la mia vendita di oggi mi procureranno una rendita mensile. Ok? Ma venderò il mese successivo e se andranno ad aggiungere cosa faccio? Aumento la mia rendita mese per mese. Perciò mi vado a creare una rendita con dei guadagni mensili ricorrenti che soddisfano le mie esigenze. Perfetto? Ok? Tutto questo sarebbe bellissimo ma se non avete un'offerta perfetta di irresistibile cosa significa? Io vi ho detto il nostro software costa 1.900 no? Cioè ha un valore di oltre 1.900 perché solo un prodotto ne valeva 1.900 se aggiungiamo un bel po' di prodotti e veramente a livello mensile uscirebbe fuori un prezzo esagerato. Se vi dicessi guarda lo dobbiamo vendere alla metà del prezzo a 1.000 euro sarebbe eccezionale perché troveremmo qualcuno che lo compra perché magari utilizza tutti quei servizi e gli serve. Per esempio uno che spende già 1.900 per l'abbonamento a GetResponse se non glielo offriamo a 1.000 per le stesse identiche cose ok? Con la stessa identica qualità secondo voi cosa fa questa persona? Beh vi risparmia 900 euro al mese o no? Gli abbiamo fatto guadagnare già 9.000 10.000 800 euro in un anno solo grazie a Builderall ok? Questo per darvi l'idea ma l'azienda ha voluto fare molto di più ci ha dato l'opportunità di vendere un abbonamento a 45 euro perché vuole arrivare a milioni e milioni di utenti capite che noi abbiamo un'offerta perfetta ed è irresistibile perché nessuno vi può dire no vi può dire guarda lo compro fra due mesi fra tre mesi dammi il tempo di capire ma l'offerta è perfetta ed irresistibile dopodiché noi abbiamo bisogno anche di avere un marketing professionale dei sales funnel perché se vogliamo promuovere online questi servizi se non abbiamo questi strumenti sarà difficile bene l'azienda già ce li fornisce in più li possiamo realizzare noi da soli perché impariamo anche a fare questo le sei leggi sono rispettate la settima è una prerogativa di Builderall quello di fornirci una leva di vendita e di guadagno cosa significa? significa che noi possiamo creare una organizzazione di lavoro con dei collaboratori che lavorano insieme a noi con noi e ci creano questa ricchezza la leva cos'è? è quando noi facciamo qualcosa di piccolo ma otteniamo qualcosa di grande sia per le vendite perciò vendiamo poco ma è come se stessimo vendendo tanto e lo stesso sistema di guadagno noi lavoriamo vendiamo per avere un guadagno totto ma grazie alla leva questo guadagno diventa molto più elevato e adesso vi faccio un esempio pratico un esempio pratico questo qui vado avanti ok qui voglio dire è chiaro che io lavoro con una nel miglior nella migliore nicchia online che è quella dei siti web e chiaramente già sto guadagnando tanti soldi grazie a questa azienda programma business è la stessa identica chance che tu hai e per farti capire questo ho preparato questo specchietto per farti capire come si guadagna 100% di ogni tua prima vendita ogni volta che tu venderai per la prima volta un abbonamento l'abbonamento va tutto in tasca a te dal secondo mese in poi il 30% dell'abbonamento ma grazie al discorso dell'affiliazione chi ha acquistato l'abbonamento potrà decidere di rivenderlo anche a sua volta alcuni di questi diventeranno rivenditori e quando qualcuno di questi diventerà un rivenditore tu avrai il 30% anche tu capisci che questo è qualcosa di eccezionale ragazzi eccezionale l'azienda ha investito milioni di dollari e tantissimi anni per arrivare a questo livello e fornirci un sistema che funziona non dovete impazzire funziona c'è già la dimostrazione ok io adesso vi faccio questo esempio pratico facciamo finta che voi vendiate 30 licenze solo 30 non importa in quanto tempo cioè qui stiamo parlando di numeri voi vendete 30 licenze la metà di queste persone acquisteranno una licenza da 27 euro e l'altra metà da 45 ok quelli che hanno la metà di questi 15 decideranno di fare la stessa cosa che avete fatto voi questo è un esempio ci siamo mi state seguendo prendete carta e penna e andiamo avanti allora 15 vendita 26 90 ci procurano il 100% del primo mese 403 euro e 120 euro ogni mese solo con 15 vendite ok poi le altre 15 da 44 e 90 licenze business vi procurano 673 euro che sommate a queste vi danno un bonus di 1000 euro lo chiamo bonus perché è una tanto è la prima mensilità però avrete 320 euro al mese beh ragazzi con 30 vendita avere 320 euro al mese di rendita e qua veramente rendita è già buono ma la leva guardate cosa fa ragazzi questi 15 che decideranno di vendere anche loro venderanno le 30 licenze come te ok anche qui ripeto non importa in quanto tempo qua stiamo facendo un esempio matematico le 15 vendite fatte da 15 affiliati a te porteranno il 30% delle vendite perciò 8 euro dalle vendite da 26 e 90 che per te però significano 1800 euro al mese lo stesso quelle vendite da 44 e 90 ti porteranno 13 euro e 47 in tasca per ogni vendita perciò 3000 euro di vendita beh ragazzi voi avete fatto 30 vendite ok solo 30 vendite ma vi portate a casa oltre 5000 euro al mese perché vi ritrovate 480 clienti eppure voi ne avete fatti 30 questa è la leva che Builderall vi mette in mano datevi una leva e vi solleverò il mondo e Builderall ce l'ha data alla grande vedo questi sono degli esempi non è io che vi sto dicendo che voi entrate in Builderall domani mattina avete fatto 30 licenze ognuno farà 30 no possono essere di più possono essere di meno dipende dipende da quanto tempo dedicate se volete farlo part time full time bla bla ok per fare questo abbiamo un calcolatore che vi permetterà di giocare di giocare in che senso in che modo simulando quante vendite volete fare voi quante persone avrete come affiliati nella vostra rete e quante vendite farà ogni singolo affiliato io ipotizzo 100 vendite in un anno e qua parliamo in un anno giusto per avere un dato temporale diciamo che la metà di queste persone come ho detto prima la metà a loro volta faranno la stessa cosa però va bene diciamo che non tutti riusciranno a vendere 100 licenze in un anno no che magari devono iniziare diciamo finta che ne vendano 50 in un anno bene io mi porterei a casa dico porterei perché questo è sempre una simulazione 35.000 euro al mese eppure io ho venduto solo 100 licenze guardate le 100 licenze da sole quanto mi portano mi portano uno stipendio se io lavorassi da solo da imprenditore farei un bello stipendio vendendo 100 licenze in un anno caspita ragazzi io ci metto la firma ok perché già questa è una buona cifra 4.450 cash più 1.347 ogni mese ma grazie all'effetto leva io posso incrementare in maniera esponenziale i miei guadagni adesso facciamo un esempio più pratico magari perché 100 vendite in un anno se uno non è bravissimo non riesce a farle o cose del genere facciamo che facciamo una vendita a settimana 52 settimane ok e la metà di questi decidono di diventare rivenditore a loro volta ok e questi magari lo fanno part time e mediamente anche loro guardate con 52 avrei 700 ma grazie a questo lavoro qui se anche loro vendono una licenza a settimana io arriverei a 18.000 euro anche qui numeri stratosferici vogliamo fare qualcosa di più semplice due licenze al mese la metà di queste persone fanno questo e vendono anche loro due licenze al mese bene qua già entriamo in qualcosa di molto molto più realizzabile perché qui stiamo parlando di vendere due licenze da 45 euro al mese signori due licenze al mese stiamo parlando stiamo parlando di cifre stratosferiche due licenze al mese non riuscite a farlo subito imparerete a farlo costanza negli anni ok voi vi potrete creare una rendita 2 3.000 euro 1.000 1.500 500 dipende da voi da quello che volete fare questo per farvi capire guardate nell'ipotesi proprio più basta da una vendita al mese insegnate a fare una vendita al mese alle persone e voi vi portate 2.100 euro a casa anche questo è un lavoro fare le vendite insegnare a fare le vendite ragazzi è un sistema strabiliante non esiste io non avevo mai trovato un'azienda che mi faceva vendere un software che ne vale 1.900 lo vendo a 45 e con un sistema di leva come questo qui è fuori di testa e per questo stiamo lavorando in tanti ottenendo risultati i più chi meno ma tutti stiamo portando risultati le persone che hanno costanza vengono premiate chi più chi meno ma vengono premiate perché diventare affiliato? perché guadagni subito qua ogni settimana ogni giovedì noi incassiamo soldi cash con tanti nel nostro Paypal non poi quando sarà ma un mese due mesi tre mesi no no subito subito vendi incassi cioè in 15 giorni tu hai già i tuoi soldi perché fai la prima vendita il tempo che passa una settimana dell'incasso insomma mediamente nei primi 15 giorni se parti puoi guadagnare ci sono tante tante esperienze nel gruppo che sono riuscite a guadagnare da subito chi tanto chi poco poco importa perché? perché hai il 100% di commissione appena fai la tua prima vendita capisci? cioè qui l'azienda veramente ti vuol premiare per il tuo impegno e poi per il mantenimento e se arrivi a 100 vendite dipendentemente da quando anche fra tre anni non importa quando arrivi a 100 vendite tue dirette l'azienda ti premia con un bonus per un'auto ti dà 500 dollari e tu ti vai a scegliere la macchina a noleggio a lungo termine e ogni mese l'azienda ti dà 500 dollari se ne vendi 200 di licenze ti porta il bonus a 1000 poi basta perché se no ci compreremmo l'aereo perché abbiamo un programma che in tre passi riesce a farti veramente iniziare il tuo lavoro da zero abbiamo le leve per vendita e guadagni guardate solo per questo dovresti iniziare a lavorare con Builderall perché abbiamo funnel già pronti all'uso perché Builderall ti dà la possibilità di creare la tua attività commerciale perché Builderall è l'unica azienda che è pronta a comprare la tua attività commerciale cioè se tu crei una rendita ok decidi domani di mollare per un motivo X qualsiasi hai creato una rendita da 1000 euro al mese ti metti d'accordo con l'azienda o con noi o con chi vuoi e ci offri la tua attività ce la passi perché è una rendita capisci? ha un valore è un valore si calcola in base alle persone faccio l'esempio avete un bar create un bar da zero a guadagna 100.000 euro l'anno dopo tre anni cinque anni vi siete stancati perché vi siete fatto un mazzo così decidete di venderlo esiste una formula che si chiama avviamento commerciale che si calcola e ti dice ok il tuo bar vale tot idem qui questo io non l'ho mai sentito in nessun'altra azienda questi sono i motivi per cui stare con noi diventare un affiliato è facilissimo perciò se hai già un account builder ti basta fare l'upgrade all'account business se non ce l'hai compra subito un account business owner dove hai l'abbonamento da 45 con tutti i servizi di builder all e in più anche la parte affiliazione inclusa nel prezzo non devi pagare niente di più tu hai l'abbonamento da 45 se vuoi lavori in affiliazione se no hai tutti gli strumenti per crescere per fare business come vuoi con chi vuoi con altre aziende non sei obbligato a vendere builder all stesso ok che succede dopo che hai acquistato questo abbonamento solitamente purtroppo succede che con le altre aziende li trovate da soli ok mentre qui in builder all ho già vi ho fatto vedere l'anteprima no della di questa già questo vi dovrebbe far capire che voi non sarete mai soli ma poi abbiamo un state mi vado sui social un gruppo non lo voglio far vedere ecco abbiamo questo gruppo all'interno di questo gruppo siamo organizzatissimi si parte arrivate vi fate il percorso dell'unità e vi andiamo a spiegare come iniziare subito ok tutorial in italiano primi passi da fare il benvenuto come usare al meglio il gruppo trovare le unità sullo smartphone insomma vi porto in un percorso dove vi faccio conoscere il nostro gruppo di supporto ma il nostro gruppo poi organizzatissimo perché come vedete è suddiviso per categorie ok suddiviso per categorie significa che dovete trovare qualcosa a livello di supporto tecnico cliccate qui e prima ancora di fare una domanda magari vedete se già qualcuno ha risposto come mettendo qui dentro il termine che vi serve perciò tra la ricerca di argomenti e la ricerca di gruppo voi troverete all'interno del gruppo già del supporto e se non lo trovate scrivete e qualcuno vi risponde ci sono ben 370 richieste di supporto tutte con una risposta ok primo gruppo dal primo posto fissato in alto vi da tutte le cose necessarie immediate che vi servono il link per esempio adesso per l'acquisto del webinar scusate del summit che faremo a Rimini lo trovate qui l'accesso al training lo trovate qui il link del webinar lo trovate qui cioè qua trovate tutto vi volete iscrivere al canale telegram per non perdere nessuna delle mie dirette lo trovate qui come vedete siamo organizzati per dare supporto e non lasciarvi soli prima cosa poi abbiamo un programma direttamente all'interno di Builderall nella piattaforma abbiamo tutorial programma 365 giorni abbiamo un programma 30 giorni e questa è una figata pazzesca ragazzi ditemi voi ok se mai nella vostra vita avete trovato un'azienda che dice ok vieni a lavorare con me te insegno tutto quanto ma addirittura i primissimi giorni ti fornisce testi e immagini da postare nella vostra pagina facebook per poi promuoverli online avete mai trovato un'azienda che vi fornisce testi beh forse sì qualcuno c'è ma noi ve ne forniamo 30 ma addirittura all'interno della piattaforma ragazzi nelle applicazioni abbiamo lo strumento autopost e nello strumento autopost in automatico vedete qui potete inserire i vostri account quanti ne avete non solamente uno cliccate su post pronti all'uso importa sequenza venite qua scegliete sequenza standard 30 giorni business e vi ritrovate i 30 post già pronti per essere caricati come decidete voi giorno per giorno dopo 5 minuti un giorno bla 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 all'interno della vostra pagina che avete legato tutto automatizzato questo per farvi capire un attimino cosa significa automatizzare il vostro lavoro qui non dovete sapere niente cioè veramente entrate all'interno vi guido io nei primi 30 giorni vi dico quello che dovete fare perché all'interno qui licenza commerciale a due livelli vedete cliccate c'è tutta l'area dedicata tutti questi menu sono tutti per voi e decidete di lavorare con noi 30 giorni cliccate qui sono i primi 30 giorni che siete con noi e io vi porto per mano io ok guardate qui questa è la piattaforma scusatemi prima dei 30 giorni questo è quello che vi avevo fatto vedere prima ed è automatizzato però volendo ce l'avete anche manuale ma parti da qui parti da qui e vi porto per mano insegnandovi proprio i primissimi passi da fare per partire nel modo giusto ok e questo lo trovate qui tutto in italiano man mano stiamo traducendo tutto quel poco che è rimasto lo stiamo traducendo i video li facciamo per i fatti nostri perché sarebbe complicato utilizzare i video cioè riuscire a far cambiare tutti i video che ci sono qui dentro allora ho deciso di investire io personalmente su questa piattaforma per potervi dare vedete qui ci sono tutto quello che trovate qui training rapidi costruttore city pick tutto quello che c'è qui lo trovate di qua perciò man mano che andremo avanti nel tempo andremo a riempire qualcosa di eccezionale and avanti webinar come questo ogni settimana perciò vi aiuto io a vendere voi non dovete vendere ci penso io voi portate gli ospiti come è stato fatto per voi e io penso a spiegargli il tutto e poi la parte tecnica si farà dopo ogni settimana da febbraio ad oggi io non ho scherrato di un solo mercoledì anche l'estate io ho fatto i webinar e ve lo possono garantire le persone che vi hanno invitato ok troverete sempre nuovi fan continuamente aggiornati per trovare nuovi clienti nuovi affiliati per andare a vendere in attività commerciali di tutto e di più training rapido ve l'ho detto perché ci abbiamo oltre a questo anche un training rapido proprio fatto per bene vada lo faccio vedere un attimo tanto basta cliccare qui pack e vedete abbiamo il nostro bel training con tutte le lezioni per iniziare per portarvi in mano nella mano a costruire anche il vostro sito web se volete anzi io consiglio a tutti di iniziare da qui perché se conoscete il prodotto riuscirete a vendere molto meglio ma anche perché se volete imparare un mestiere ragazzi questo è il miglior mestiere che c'è per il vostro futuro futuro dei vostri figli vostra moglie cioè qua veramente potete far la differenza ok abbiamo finito l'ultima cosa voglio essere chiaro su questo punto chiarissimo perché qualcuno mi ha detto ma allora io devo sempre portaclienti come il multilevel marketing bene no builderall non è multilevel marketing e non ho niente contro il multilevel marketing perché è il miglior sistema del mondo per fare soldi però builderall purtroppo io dico per me credetemi io sarei contentissimo se builderall potesse funzionare con un sistema di multilevel marketing e spero che un domani l'azienda cambi idea e ci faccia guadagnare perché guadagneremo molto di più ma molto di più però già con due livelli ci fa guadagnare un pacco di soldi voi immaginatevi se ne avessimo sei di livelli quanto guadagneremo va bene teniamocelo così signori non è multilevello voi fate le vendite e questo genera persone contente che parleranno del prodotto e solo sul secondo livello noi potremo guadagnare perciò non è multilevel marketing noi non dobbiamo andare a reclutare nessuno ma dobbiamo vendere servizi se voi vendete bene questa persona è contenta e automaticamente lavorando online dopo un po' la metà questa è una statistica la metà dei vostri clienti diventeranno rivenditori da soli che non devono tirar fuori un euro non devono fare niente cioè devono semplicemente prendere un link e metterlo su facebook o su youtube o dove vogliono ok questo è quanto l'unica cosa che ti posso dire adesso è muoviti immediatamente e non perdere tempo perché perché oltre a quello che hai sentito stasera tra poco scoppierà una bomba in Italia che voi manco immaginate grazie al nostro team al nostro gruppo di lavoro grazie a Builderall stiamo costruendo un funnel fantastico stiamo facendo tanti preparando tanti con tanti collaboratori che sono arrivati in Builderall ma quello che ti dico è muoviti adesso prendi subito la tua posizione e inizia già a portare ospiti per la settimana prossima perché veramente faremo delle cose insieme pazzesche ragazzi pazzesche non immaginate nemmeno dove dobbiamo andare ok io adesso saluto chi deciderà di salutarmi di andare via mentre con gli altri io aprirò il microfono e andremo avanti faccio questo saluto anche perché chiudo la registrazione in maniera che poi questa possa restare avanti la parte successiva non verrà mai divulgata resterà comunque una formazione tra di noi ecco questo anche per voi che siete qui sappiate che ogni mercoledì io poi resto con la mia rete e anche con voi cioè se siete qui nuovi per fare rispondere alle vostre domande e anche a quelle degli affiliati che magari si sono iscritti settimana scorsa così immediatamente hanno possibilità di avere una mia consulenza diretta grazie a tutti